Non per fare la difficile, ma se partecipo a una gita solo per fumatori, mi aspetto di poter fumare dove voglio. E invece no. Ero ai musei vaticani e mi hanno detto di buttare la sigaretta. Ero alla mostra di Picasso e mi hanno detto di buttare la sigaretta. Me ne stavo all'Uvra a guardare Mona Lisa e mi hanno detto di buttare la sigaretta. Insomma, io sto sempre attenta. Ma alla minima fiamma loro aprono quei sistemi antincendio e i quadri si bagnano. E' stupido. Perciò cerco qualcuno che fumi come un bastardo. Non sono interessata a una relazione con uno che non fuma.